E' uno di quei luoghi che rappresentano la storia di un territorio, custodi di episodi che hanno lasciato traccia di un passato che ha segnato il futuro delle comunità che li hanno abitati fino alla loro estinzione. Un sito prezioso perché rappresenta le origini e le tradizioni della città in cui insiste è I Casilini, un complesso di antiche abitazioni immerse nel verde di località Valle a Sala Consilina affacciate sul Vallo di Diano. Ed è in questo scenario incantato che si terrà il 6 e il 7 settembre la prima edizione della Sagra dei Casilini pensata dall'associazione I Ragazzi di Castello. Vogliamo farvi rivivere due giorni immersi nella natura in un paesaggio caratteristico di Sala Consilina. Ci saranno dei ragazzi della musica che ci accompagnano per tutto il percorso con la musica popolare e sopra in Valle e sopra ai Casalini ci sarà musica di intrattenimento. Un'iniziativa spiega il consigliere comunale delegato al centro storico che segnerà l'inizio di un nuovo futuro per i Casilini sollecitato dai giovani dell'associazione. Più che un'iniziativa del comune è stata un'iniziativa dei ragazzi di Castello che hanno individuato questo posto per riprenderlo. Hanno chiesto la collaborazione a noi del comune perché loro volevano mettere l'illuminazione ovviamente per le tre serate. Da questa è nata la collaborazione perché la illuminazione sia continuativa con sistemi alternativi di alimentazione quindi con il fotovoltaico e venga poi portato avanti il progetto di recupero di tutta la zona come area picnic, come area anche teatrale.